Potenziare l'ospedale San Jacopo grazie alla collaborazione tra Fondazione Caripit, Azienda Sanitaria Regionale e Università di Firenze. È il progetto denominato Pistoia si rinnova, ideato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, che prevede la realizzazione di tre progetti. Il primo è l'ECPR per una speranza di vita nell'arresto cardiaco. Poi c'è il progetto Oncobio, la biopsia liquida nel paziente oncologico per la giusta scelta terapeutica personalizzata. E infine il progetto CM, la nuova carta d'identità dei bambini pistoiesi basata sul loro microbioma. Questa a mio avviso è un'iniziativa di portata estremamente rilevante perché mette nella condizione il nostro ospedale di andare o a studiare e approfondire alcuni aspetti che possono avere ripercussioni importanti sulla salute. Adesso li spiegherò un po' meglio in dettaglio. Oppure consente di fornire delle tecnologie che nell'immediato possono risultare determinanti per la speranza di vita della persona nel momento in cui è affetta da patologie particolarmente gravi dal punto di vista cardiovascolare. Più nello specifico abbiamo un ultilore progetto che riguarda l'oncologia per una modalità di studio più raffinata da un punto di vista istologico delle caratteristiche di alcune tipologie tumorali e per quel che riguarda il mio settore di specifico interesse che è la pediatria è partito uno studio per definire quello che si chiama microbiota cioè quell'insieme di batteri, miliardi, trilioni di batteri che vivono nel nostro corpo e che oggi abbiamo scoperto essere un elemento determinante non solo sul benessere intestinale ma sul benessere globale dell'individuo ed anche in grado di essere un determinante di patologie dell'età adulta e quindi il poter andare a studiare in tutti i nuovi nati dell'ospedale San Jacopo le caratteristiche del loro microbiota e correlarlo a abitudini materne a come ha mangiato la mamma, in che zona è vissuta la mamma quindi qual è stato il contesto ambientale nel cui si è sverificata la gravidanza può avere ripercussioni rilevanti anche su strategie utili per identificare dei programmi, dei progetti che possano incidere positivamente sulle caratteristiche di questo microbiota Pistoia si rinnova è un progetto che abbiamo attivato assieme all'ASL Toscana Centro e all'Università di Firenze per dotare il nostro ospedale, il Santiago di alcune risposte per interventi in campo sanitario che siano avanzati dal punto di vista scientifici all'avanguardia dal punto di vista scientifici abbiamo messo a disposizione in tre anni, 2019, 2020, 2021 questo lo voglio sottolineare, circa un milione e quattro quindi questo milione e quattro servirà per coprire le spese di alcune strumentazioni le spese relative all'utilizzo di questi strumenti ma anche le spese relative alla formazione del personale quindi voglio sottolineare che l'impegno della Fondazione in questo caso non solo è organico ma è anche molto importante